Grazie. La cena era uno schifo, ma questo lo sapevo. Poi il studio all'inizio. Che bello, Rodolfo Bianciardi. Ma che bello, tutti questi smanceri, su, continuo a baciamano. I baciamano, che cosa romantica. Che cosa? Può essere pure antigienico, capito? Ma che dici? Appoggiare la bocca nella... A me mi dispiace per lui, perché lui non fa un passavante, non si decide. Ma lei come ha reagito? Mi ha scattato un feeling tra loro due. Sono usciti abbracciati, forse per colpa mia. C'è chi? Lui, la colpa è sua, mi dispiace a me per lui. Nino, ma noi obiettivamente che cosa possiamo fare? Ormai il capitano è diventato quasi un vecchio, se non si dà a lui una svegliata, una raddrizzata. Lei è senza cuota, lo dico io. Oh, ma come parli? Ma tu che cosa ne puoi sapere di una giovane donna in fiore, scombussolata dal ritmo degli eventi sentimentali, in questo turbinio, in questo pirotecnico sublime... E che è? Via col vento. Maricciallo! Sì, arrivo, mi ha chiamato. E che mi fai fare? Come sei romantica.